Immagina di essere seduto comodamente sul divano, pronto a immergerti in una storia ricca di emozioni, colpi di scena e sentimenti intensi. Se sei un appassionato di endless love, preparati perché ciò che stai per scoprire ti lascerà senza fiato. Nelle prossime puntate, la vita di Nihan sarà appesa a un filo dopo un terribile incidente automobilistico e Kemal sarà travolto dalla disperazione. La tensione è palpabile. Nihan, la nostra protagonista, si troverà in una situazione drammatica che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita. Ma come si è arrivati a questo punto? Tutto inizia con la gelosia cieca di Asu, una donna disposta a tutto pur di eliminare la sua rivale in amore. Dopo aver effettuato i test del DNA, Kemal scopre finalmente che la piccola Denise è sua figlia. Puoi immaginare l'emozione? Il cuore che batte forte, la gioia che esplode nel petto. Senza perdere tempo si precipita da Nihan per condividere la notizia. Ma non è tutto rose e fiori. Tra i due scoppia una discussione accesa. Le parole volano, i toni si alzano, ma alla fine riescono a chiarirsi. Sognano un futuro insieme, una famiglia unita, lontano da tutti i problemi che li hanno afflitti. Kemal, determinato e innamorato, insiste per una fuga immediata dalla Turchia. Vuole mettere al sicuro Nihan e Deniz, lontano dalla minaccia costante di Emir. Ma Nihan non è convinta. Chiede a Kemal di pazientare, temendo le possibili ripercussioni di Emir, che nel frattempo si trova a Istanbul, ignaro di ciò che sta accadendo. Mentre i due innamorati vivono momenti di intensa emozione con la loro bambina, Asu osserva da lontano. Si rende conto che Kemal ha riallacciato i rapporti con Nihan e che il suo matrimonio è ormai in frantumi. La gelosia si trasforma in rabbia e la rabbia in un desiderio di vendetta. Decisa a eliminare la sua rivale, Asu ordina ai suoi uomini di sabotare l'auto di Nihan, pianificando un incidente che sembri del tutto casuale. Il mattino seguente, ignaro del pericolo, Kemal prende la piccola Deniz e la sistema in macchina. Chiama Nihan, pronto a realizzare il loro sogno. Nihan, sorpresa dall'assenza della figlia, si mette in agitazione. Kemal le dice che presto saranno tutti insieme, ma che deve seguirlo. «Vieni con noi o torna da lui», le dice con tono deciso. Nihan, combattuta, decide di seguirlo con la sua auto. La strada si snoda davanti a loro, mentre Nihan cerca di contattare Kemal al telefono. Gli implora di fermarsi, di restituirle la bambina. Ma Kemal è fermo nella sua decisione, vuole proteggere entrambe da Emir e crede che questo sia l'unico modo. Ma ecco che accade l'inaspettato. Nihan, in preda al panico, si rende conto che qualcosa non va con la sua auto. «Non riesco a fermare la macchina», urla disperata al telefono. Il cuore di Kemal salta un battito, guarda nello specchietto retrovisore e vede l'auto di Nihan che sbandiera. La tensione sale alle stelle. All'improvviso, l'auto di Nihan esce di strada e si schianta contro un albero. Il tempo sembra fermarsi. Kemal frena bruscamente e corre verso di lei, il cuore in gola. «Nihan, Nihan», grida con voce rotta. La trova priva di sensi, il volto pallido. «Non posso vivere senza di te», sussurra con le lacrime agli occhi. Fortunatamente Leila e Ayan, che avevano un appuntamento con loro, arrivano sul posto. Vedono la scena e si precipitano ad aiutare. Kemal, in preda al panico, urla «L'ho uccisa, è colpa mia!». Ayan cerca di calmarlo. Respira ancora, sta arrivando l'ambulanza, ma il senso di colpa divora Kemal. Non sa che dietro l'incidente c'è il piano malvagio di Asu. Nel frattempo, Asu si crogiola nella sua soddisfazione. Ha colpito nel segno. Ma è davvero questo che desidera? La sua vendetta la renderà felice? O è solo l'inizio di un vortice di emozioni negative che finiranno per distruggerla. La famiglia Soidere è delusa e sconvolta dalle azioni di Asu. Nelle puntate precedenti, Kemal aveva reso pubblica la notizia che Asu è la sorella di Emir, sconvolgendo tutti. Feime, che l'aveva sempre considerata come una figlia, si sente tradita. Le bugie di Asu hanno minato la fiducia di tutti. Ma torniamo a Kemal. L'uomo è consumato dal rimorso. Crede di essere responsabile dell'incidente di Nian. Ogni istante che passa è un tormento. Si chiede se riuscirà mai a perdonarsi. Ma noi sappiamo che il vero colpevole è Asu. Riuscirà Kemal a scoprire la verità? E quando lo farà, quale sarà la sua reazione? Immagina la scena in ospedale. Nian giace su un letto, ancora priva di sensi. Kemal le stringe la mano, sperando in un miracolo. Devi svegliarti per me e per Denise, le sussurra. Le ore passano lente, l'attesa è snervante. Ogni suono, ogni movimento potrebbe essere il segno che Nian sta tornando. Leila e Aihan sono al suo fianco. Cercano di dargli forza, di fargli capire che non è colpa sua. Ma Kemal è inconsolabile. Pensa a tutto ciò che avrebbe potuto fare diversamente. Si ripete che non avrebbe dovuto costringerla a seguirlo, che avrebbe dovuto ascoltarla. Nel frattempo, Emir viene a sapere dell'incidente. La sua reazione è ambigua. È preoccupato per Nian o vede in questo un'opportunità? L'uomo è sempre stato ossessionato da lei e la situazione potrebbe spingerlo a compiere azioni imprevedibili. Asu osserva tutto da lontano. Forse inizia a rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni. La colpa inizia a farsi strada nel suo cuore? O è troppo accecata dalla gelosia per provare rimorso? Le prossime puntate promettono emozioni forti. Ci chiediamo, Nian si riprenderà? Kemal riuscirà a scoprire la verità sull'incidente? E come reagirà quando saprà che Asu ha cercato di uccidere la donna che ama? Ma c'è di più. Questo evento drammatico potrebbe avvicinare ancora di più Kemal e Nian. Potrebbe rafforzare il loro legame e renderli ancora più determinati a stare insieme. Dopotutto hanno già superato tante difficoltà. L'amore vero sa resistere alle tempeste più violente. E Denise, la piccola, ha bisogno dei suoi genitori. Potrebbe essere proprio lei il motivo per cui Nian lotterà con tutte le sue forze per tornare. L'immagine della sua bambina potrebbe darle la spinta necessaria per svegliarsi e riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, la tensione tra Kemal e Emir potrebbe raggiungere nuovi picchi. Due uomini innamorati della stessa donna, pronti a tutto pur di averla al loro fianco. Il confronto è inevitabile e potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. E Asu? La sua posizione diventa sempre più delicata. Le sue azioni potrebbero essere scoperte e allora dovrà affrontare la furia di Kemal e della famiglia Soidere. Forse è arrivato il momento per lei di fare i conti con se stessa e con i suoi errori. Endless Love, she, tiene con il fiato sospeso. Ogni episodio è un turbine di emozioni, dove amore, odio, vendetta e perdono si intrecciano in una trama avvincente. Ci fa riflettere su quanto l'amore possa essere potente, ma anche su come la gelosia possa corrompere le persone. Mentre aspettiamo con ansia di vedere cosa accadrà, possiamo solo immaginare le possibili evoluzioni. Forse Kemal scoprirà indizi che lo porteranno a sospettare di Asu. Forse Nian, una volta sveglia, ricorderà dettagli importanti sull'incidente. O magari un personaggio inaspettato entrerà in gioco, svelando verità nascoste. Ciò che è certo è che le prossime puntate saranno cruciali. I destini dei nostri protagonisti sono in bilico e ogni scelta potrebbe cambiare tutto. La tensione è alle stelle e noi non possiamo fare altro che restare sintonizzati, pronti a vivere ogni istante con loro. E tu? Cosa pensi che accadrà? Hai qualche teoria su come si evolverà la situazione? Pensi che Kemal riuscirà a scoprire il piano di Asu? E Nian riuscirà a superare questo terribile incidente? Non perdere le prossime puntate di Endless Love. Prepara i fazzoletti perché le emozioni saranno intense. Lasciati trasportare da questa storia appassionante dove l'amore combatte contro ogni avversità. Ricorda, ogni grande storia d'amore ha le sue sfide. Ma è proprio attraverso queste prove che i sentimenti si rafforzano e diventano indissolubili. Forse, alla fine, Kemal e Nian riusciranno a trovare la felicità che meritano. Nel frattempo, continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti e le anticipazioni. Condividi le tue opinioni e le tue emozioni. Insieme possiamo vivere al massimo questa avventura straordinaria. Prepara il cuore perché Endless Love ha ancora molto da raccontare e siamo sicuri che non ti deluderà.